Allora un caro saluto agli amici di Angolo di Mondo, mi trovo in una frazione di Bernate Ticino con un bravissimo artista Giacomo Bonetti. Siamo in casa sua e abbiamo il piacere di vedere diverse sue opere che pian piano vi faremo scoprire e vedere insieme a noi. Ecco questo non è nient'altro che un abbozzo diciamo di quello che sarà il quadro romanzo. Io faccio quasi sempre Ticino, in questo caso faccio le barche, volevo fare una serie con le barche del Ticino dove ci sarà poi tutta l'acqua con la spiaggia che viene fuori, con tutti i suoi giochi di luce che poi saranno da completare con le piante, con tutto quello che è diciamo la struttura del quadro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.